Le telecamere di Rossini TV continuano a intervenire sulle segnalazioni di voi cittadini. In questo caso siamo tornati su un luogo spesso segnalato per alcune situazioni di incuria. Questo è l'accesso alla spiaggia libera di Viale Trieste, adiacente alla sede ormai dismessa di Pesaro Studi. Un ingresso non solo a spiaggia libera ma anche a uno stabilimento malneare in cui si registrano diverse problematiche. In curia a livello di sporcizia, di erbe incolte, di mattonelle e contatori o pozzetti pericolosi, come ci spiega anche il consigliere di quartiere di Santa Veneranda Giovanni Del Monte. Queste cose qui vanno avanti dagli anni. Dall'anno scorso io ho già scritto tre volte nei giornali ma nessuno si è visto. L'entrata per venire in questa spiaggia libera, che non è libera questa spiaggia in questo caso, deve passare in mezzo agli mondizi, in mezzo a erbe alte i metri e più all'inizio dell'entrata, sulla destra entrando verso il mare, c'è un contatore dell'acqua che è anni che è lì tutto rotto, rugginito, i coperchi e dentro ci sono i contatori a quasi un metro di profondità dove possono cadere i bambini. Qui ci sono le mattonelle messe per quanto c'erano i giochi sull'acqua, che sono tutte sparse ancora nella spiaggia libera, molte sono scoperte e altre sono coperte, dove la gente prova di piantare l'ombrellone ma non va giù, perché sotto ci sono cose. E cosa si aspetta di portarle via? Chi le deve portare via? In tutti i bagnini c'è la differenziata, la raccolta dell'immondizia differenziata. Che cosa c'è qui? Qui ci sono quattro bidoni dove la gente mette dentro lì vetro, plastica, carta, mette tutto dentro lì, perché faceva male metterci vicino a quei bidoni, uno dove si mette il vetro, dove deve buttare il vetro, la botta in giro così la butta.